Allora, io direi di introdurre il primo finalista, un giovane tenore albanese, dell'età di 22 anni, che ci canterà dall'almesiano di Cilea, Il Lamento di Federico. Prego. Ecco, sarà accompagnato dal maestro Gildardo Tababa. Grazie. 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 La fructosità dei 22 anni Adesso è la volta di Renicelle Un socrame di 28 anni Fabiana naturalmente E da Verdi E da Verdi Enrico Lento Caccaro Lume Grazie 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 alla russia. questo franno. di 25 anni. si chiama Anna Cabrera Erizeva. eh. ed ed è puritano ci caccherà qui la voce sua suave. Grazie. 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 Fortunatissima verde, l newborn, da la 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 la, la la la, la 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 la! Da la data datorate er the charm,λ se hospitalizedento anda in giro sta, bi r gezeigt reverbbero al biene, di ambione. Da della posita la lo del dial la 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sì Per carità, per carità, per carità, una volta, una volta, una volta, per carità. Saluto Grazie a tutti. Grazie. 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 Il più sangue, il più sangue, il più sangue, il più sangue. Il più sangue, il più sangue, il più sangue. Il più sangue, il più sangue, il più sangue. Il più sangue. Il più sangue, il più sangue. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.